Per me la scrittura è un gioco d'azzardo. Mi sono abituato ad avere cinque carte in mano che mi vengono date e quelle cinque carte sono sempre diverse. E tu devi riuscire a vincere con quelle cinque carte diverse. A volte hai una coppia, a volte non hai un cazzo, a volte hai un fool e in base all'idea che hai tu te la devi giocare. Il vero blef nel poker o nei giochi d'azzardi avvengono quando anche tu stesso non ti stai accorgendo che stai andando in quel blef lì. E questo è scrivere. Non hai niente in mano e stai decidendo di scrivere un libro.